Ciao a tutti, io mi chiamo Cristiano, sono fotografo sportivo, sono in uno studio fotografico dove lavoro. Questa è una parte dell'attrezzatura che noi utilizziamo per fare gli eventi sportivi, una parte. Non sono qui per fare dei video tutorial, ormai il video tutorial ci fa due maloni così, è pieno di video tutorial, ognuno dice la sua, molte volte non si è d'accordo con gli altri. Allora, io sono qui per fare un altro video. Il video che voglio fare è, siccome giro tutta l'Italia, voglio far vedere cosa vedono i fotografi e cosa fanno i fotografi sportivi. Anche perché sembra facile come lavoro, ma non è così, perché ad esempio la tardi sera ultramarata, una maratona che abbiamo fatto ieri, domenica, è stata sempre sotto la neve, sotto la neve, ragazzi, stare otto ore sotto la neve, sedere in un punto, fare tutte le foto, tutti i partecipanti, fatte bene, non è che fai le foto e poi basta finire, devi farle bene, perché comunque tu devi vendere a quel punto, insomma, otto ore sotto la neve perché così è dura, è molto dura.